Il trofei ripresenta lo scultore Antonio Del Campo che ci ha offerti un gruppo politico. Io ogni anno cerco di rappresentare la vita nel meglio possibile. Come primo maschile arrivato e la prima donna femminile, insomma, è arrivata e faccio sempre dei primi trofei indietro. Quest'anno vuol rappresentare un cuore, che rappresenta un cuore dopo una piccola fase che è abbastanza significativa. Correre e stare bene con se stessi, con gli altri e con la natura. E stare in pace con tutti. Precidio che questo è il trofei per i primi arrivati. Questa volta mi fate sforzare ancora per consigliare i premi. Grazie. 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 Grazie.